Ok ragazzi Dunque, dunque Allora Devo andare Lì Qui E Dove sono i guanti Dove sono i guanti Ah Uh Che figata Ok, dobbiamo sedere qui Poi Andiamo fuori Giusto? Oh no 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 Ho paura raga No giuro, io mi sto vicendolo sempre più La merda Ma la merda più totale Perché è quell'orso c'ha? Non so perché ma Ok, no Cardoni, cadessi Hai riuscito a trovare Joker, Sir? Sì Si Si trova nell'antica Vedo che ha beneficiato del mio consiglio Di nuovo Non ancora Non sarà facile prenderlo I montacarichi sono fuori uso E ci sono uomini di Joker ovunque Non dubito che troverai il modo di salire là Vabbè Oddio Vabbè Questi li faccio fuori Ma che cazzo Come ha fatto tirargli un pugno? Ho schiacciato il psico Pirla Maledetto Boh Che schivata Tac Opa Oh cazzo Hai un'ossatura robotta Oh che figata Proprio qui E l'essere Oh No ragazzo Lo giuro Ho sopportato il pipistrello Sai che sei un po' in ritardo per la cena? Per tua fortuna Il tuo caro amico Bain Si rifiutava decisamente Di iniziare senza di te Preferisce i piatti Che si servono freddi Ho paura Allora Chi è Chi è Chi è Mi scrive Ma tu Ma ragazzi E ok Mi preferisco salire Io ve lo giuro Aspetta Devo andare lì Sia sicuro Oh cazzo Me lo vanno a concentrare Ma immaginavo Che mi sembri Sti cazzo Sti guatti Sono tanta Aiuto Dai però Che mio coglione Ah che non si fermasse No aspetta no Ma che ti credi che mi importi Della tua famiglia Porta Dattegli il colpo di grazie No scemi divertire Amico Sei malato Scusata ragazzi Scusata Ma sei deficiente Ma Non ho scherciato Dai Vabbè Non mi sono serviti I volanti Vabbè Mi potevo usare Ma non mi sono serviti Ma stai facendo Tu Ti prego Non farmi male Al contrario Ti aiuterò Ok Ti prego Hanno i miei amici E li tengono in ostaggio All'overview bar Dove si trova? Il bar sospeso Quello fra le torri No 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 L'overview bar Fra le torri Presto Gli serve il tuo aiuto No 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 Ma presto Quelle persone non hanno Vabbè basta Abbiamo capito Non sto più lì a Tu hai qualcosa di Leo Leo no Leo no Leo no Ah Non l'ho visto Ok Dai Sto tenendo per me Ho sbagliato Sto tenendo per me Non serve Basta che passo sotto Dai non voglio salire Abbiamo due dipendenti salvati per te E Cielo Sono ancora in enorme vantaggio Nella colonna di quegli uccisi Lo so Quelle bellezze sparse in giro Sono una vera tentazione Ma non puoi farti un regalo Non è roba per te Su coraggio Non sentirti trascurato Ho un regalo speciale per te Proprio qui Ed è fasciato in oltre 180 kg di muscoli Come cazzo lo faccio fuori io Sto uomo No perché Seriamente raga Cioè Perché qualcosa si illumina Non esplode Non esplode Sono un tizio amato Maria Ma che cazzo Ma 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 Ah Oh merda Oh merda Oh Batman presto Stanno per sparare a qualcuno Ho aspettato un attimo No quella merda Non mi ricordo come si faceva a disattivarla No raga ve lo giuro non mi ricordo Così? No Così? No Così Aspetta eh Così? Non mi ricordo più No raga ve lo giuro non mi ricordo O magari non la devo disattivare Devo fare un altro giro No raga ve lo giuro non mi ricordo No raga ve lo giuro non mi ricordo Magari così Ma raga ve lo giuro E vedete come faccio io scusa No è possibile raga No è possibile raga Ma lo giuro mi sto rincoglio lì Ah ma f***a Uno c'era No scherzo Ah il disturbatore Minchia Ma che distretta Per te ovviamente Per te Che sono un'altra Che neanche 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 Eh si Ha lo sparolcini No no Copritemi di libidi Prego Ti rivoltiamo Uno Oh Atta Ecco Sì Ma Ma, brutto pezzo. Oh. No, non possiamo. E' ancora bimita. Non fossi già niente. Ma dove trovas, Ionis, queste persone? Le sparano tanto grosse e poi le leghi alla prima sedia elettrica e strillano come ragazzine. Fidati, ho fatto le mie ricerche. Muoviti prima che si richiude. Ma, aspettate, questo... Questo è normale che sia così? O... Non... Sto zitto che faccio prima. Va. Ehm... Sì. Ok, muoviti. Avanti. Eh, ho la tutta sporca. Se posso lavarla... No. Ti andiamo. Non c'è nulla. Non c'è ognun nulla. Non c'è ognun nulla. Andiamo. Devo arrivare in cima a questo condotto di ventilazione. Aspetta. Vai. 6-2, bravo. Maschera nera, risposto. Negativo. Non ho la parola. Non ho avventrato l'esercizio. Tu è il bastardo di saione. Se tu deve ignorarci. Che mi dici di cosa? L'abbiamo messo a indagare sull'attrazione. Nessuna facca ha fattonato. Ma pare che abbia wikibayla il calcagno. Tattaccio. Ci sono guagli. Ma... 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 Stavo già... Non so per cadere. Cosa ho fatto? Va. Oppala. Ma raga, ma la sta facendo spedita sta puntata. Dai, tira giù. Bravissima. Sì, tira giù. Sì, tira giù. Sei sicuro che c'è fattare in quattro? Oppa. Sali. 3-2. Sto sparando un casino diversi a random. O forse devo andare di qua. Non lo so. Ok. Dai. Batman? Batman? No! Sì! No! Non sapevo. Se tocca a cima per un pochetto nato, mi sto... Mi sto... Mi sto... Gartando la schiena. Brunello non è un... Sai di niente, eh, c'è quello di... Vabbè, stai lì ancora lì. Aspettate... Non l'ha... Non la fu... Non so cosa sto dicendo, ma vabbè, voi... Non... Voi, non... Aspettate, là ci sono dei t... C'è un tizio che sta parlando mentre pesce, vabbè. Voi non preoccupate, vabbè. Sono due e sono anche disarmati. Hanno solo il coltello, vabbè. Che incredibile. Si sono davvero superati. Ma io ci sono tre tipi di sapone. Cioè, chi ha tanto tempo libero per lavarsi. Di solito io salto nella prima vasca di acico. Tanti saluti. Lei è molto simpatica. Ti puoi andare, ma... Non abbiamo fatto niente! Ok, vabbè. Ma che razza di persona sei? Ma... Perché non mi viene più fuori... Io, in queste strade... Attosso! Vaffanculo! Ma... Ma... Voi... Oh! Beh, scolpo nella nuca. Oh, merda! Oh, oh! Cianfitti non aveva visto niente. Cianfitti non aveva visto niente. Cos'è questo? Sala da mano. Mi piace come ho ridecorato? Lo so, lo so, è un po' troppo. Cosa posso dire? Intendo a... Farmi prendere la mano, di tanto in tanto. No, non se l'ha notato. Oh, mio Dio. Che è un incubo sta roba. Non è un incubo, ma no. Ah, 5 disarmati. Ho detto una volta. Pum! Nole. Nooo... Scusate... Ma perché sta visuale? Non mi piace. Ma perché sta visuale? Non mi piace. Ho schiacciato Y, no? Ho schiacciato Y, no? Ho schiacciato Y, no? E ho schiacciato Y, no? E ho schiacciato Y. Stavolta? Neanche stavolta. Non faccio fatica con sta cazzo di misura. Oh! Accidenti! Lotteremo da uno! Oh! Oh! Ho chiedi da dove provenga tutto questo? Ma ho fatto un buon affare con una marca abbandonato. Dovevi vedere che faccia fatto la gente immobiliare alla stretta di mano finale! No! 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 Ma che... Un 28? Cosa? 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 Riga? Oh merda! E quello in X-casso? E quindi? Ah, ah, aspetta Aspetta Ok, salta Lì Forse mi sei un coglione Moriti Che sta per succedere qualcosa Non so cosa No, dai Allora, ho 26 secondi per fare Non è questo Non è questo Sì Lo puoi ciucciare già Che culo Cosa abbiamo fatto? Sì Perciò bravo 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 Ah Perché ho sentito qualcuno dire Fatemi uscire di qui Ma è che li devo liberare Magari ne devo liberare Sai che puzza di bruciato che c'è Comunque L'Electrocutioner è stata La battaglia del boss più difficile Della mia vita Ben tentativo Guadalino si esce Immagino che dovrai aspettare Finché non inizierò a mandare gli ospiti dell'hotel Mentre Noia Se non lo capisci alla spesa Vado a farmi un pisolino Aspettando Papo Natale No, io odio Questo cazzo di Batarang Continui a dare il trucco per tutto, vero? Sei parecchio attivista No E No Merda E che va al contrario Fatemi mettere sta roba Comandi Ok Lasciamo perdere Ma un attimo solo Ma al contrario Gesù Mamma mia Mamma mia Mamma che cazzo Sono Io Ti frusto con quella cintura Vuoi vedere? Adesso qua mi arriverà il carretto addosso Ma devo andare da sotto Può scendere No? Mi scappa uno starnuto Ah Mamma Cosa? Cosa? Slof Io non sono mai stato un granchetto Ma questo gentiluomo Dice che lo sapeva fare Vediamo quanto è bravo a farlo Mentre lo polvoriamo Ah 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 Sento a noi Ti faccio Relle a fritte Ah 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 Questa è la mia preferita Mi riporta in mente la mia infanzia Il sapore del popcorn Lo sperogliare delle giostre Il tampo dei vagabondi ritrovati morti sotto le passerelle Oh I miei vecchi tempi Sei fuori come una mina No no Aspettate Devo Allora Era questo 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 Merda Aspettate Questo Ah Ti prego Devi fermarlo Eh E che cosa ho fatto prima? Allora Porca troia Il primo Poi questo Poi questo E poi questo Che palco Allora Questo 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 Minchia Ehm Come C'è una cosa su cui devi lavorare Una piccola cosetta Il tuo senso dell'amorismo Stanotte non hai sorriso nemmeno una volta E beh Una feita Un sorriso al giorno toglie il vecchino di torno Il vecchino? Io sapevo il medico Anche il vecchino Anche il vecchino di torno Andare qua Nooo Dirla Che stai facendo Dai Ma Ma Rai che rimacoglio niente Sono convinti In teoria In teoria Ho schiacciato Cosa? Aspetta Batman Nooo Batman ti due Di levo da Grazie Dove hai gli occhi? E tu fai più di come se Cosa sei che faccia? Non ho mai sentito parlare Batman Come si vuole? Ma smetta Con che culo Quanto sempre Sì No 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 Ti spaccherò In due Ora sei mio No 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 Vai in giro Figa, no 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 no. 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 Esatto, da qui non esce nessuno. Questa mossa ucciderà il mercato. Anche le mie giostre lo fanno. Vuoi sapere qual è la cosa più triste? Sono a Gota, soltanto da un paio di giorni, e ho già realizzato molte più cose di te nei... quanti saranno? Due anni che me ne vai addosso indossando quei costume. O da Provence Ionis ha dato un logo, corretto fino a di non lo è fatto di mezzo. Un secondino di Blackie, dopo quello che gli ho fatto fare stasera, mi mancheranno certe capi di mutazione. Sai, è incredibile quello che puoi fare se non ti ossessioni con quel che è giusto o sbagliato. Se fai le cose, tanto per ridere. E quello è il tuo problema, mamma, che incide sulla tua efficacia. Sei davvero troppo serioso. Siamo già a 30 minuti, raga, quindi stopo qua il video. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi. Ma soprattutto divertitevi. Era da un botto che non lo dicevo e oggi sono tornato a dire. E niente ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Bella a tutti. Grazie a tutti.